Il 23enne giuliese Matteo Ciprietti è campione italiano di motociclismo nella categoria Big Super Sport. Il traguardo è stato tagliato nello scorso fine settimana all'autodromo Pietro Taruffi di Vallelunga, alle porte di Roma. Già con il secondo posto di sabato Ciprietti era diventato irraggiungibile e dopo il terzo posto della gara della domenica è iniziata la festa. Matteo Ciprietti trionfa in sella la sua Ducati Panigale V2 del team ZPM e Happy Racing. Queste le sue parole dopo il titolo tricolore. Sono molto contento di questo titolo, ho vinto, sono super soddisfatto, è stata una stagione fantastica, abbiamo lavorato bene sin dal primo giorno che ho provato questa moto, mi sono trovato bene. È stato un feeling ottimale già dai primi giorni che l'ho provata. Un grande ringraziamento al team ZPM Racing e Happy Racing perché mi hanno permesso di essere il primo vincitore con la Ducati in un campionato. Visto che la moto è all'esordio, quindi abbiamo raggiunto l'obiettivo prefissato all'inizio del campionato, cioè essere i primi, vincere il titolo. Questo è molto molto importante. Poi vorrei ringraziare tantissimo la mia famiglia, tutte le persone che mi sono state vicine in questi anni perché senza di loro questo non era possibile. Senza di loro, quindi sono molto contento e le gare sono state... ho dovuto risparmiarmi un po' perché io avevo tutto da perdere, quindi dovevo portare a casa punti per il campionato. Sono contento, vediamo cosa ci riserverà questo 2022. Intanto ci godiamo il momento. Grazie. 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 Grazie.